ciao a tutti e benvenuta nel mio canale allora nel tutorial di oggi realizzeremo insieme un poncho adoro il poncho e devo dire che ho scoperto quest'anno un sistema per farlo in modo molto semplice veramente alla portata di tutti e ve lo volevo proporre proprio perché ho trovato molto spesso difficoltà nel riperire degli schemi semplici soprattutto non mi andava né di cucire delle mattonelle né tanto meno di fare dei rettangoli da cucire o da assemblare tra di loro perché le cose cucite a me non piacciono anche perché se non sei perfetta con il numero dei punti rischi di fare un lavoraccio e poi non so magari non ci esce fuori nulla quindi vi do questo schema vi realizziamo insieme questo poncho e in modo veramente elementare semplice e quindi per fare questo progetto vi servono 8 10 gomitoli di una lana a vostro piacimento dello spessore che più vi piace in base al quale ovviamente regolerete il vostro uncinetto io sto lavorando un filato che ha uno spessore intermedio e lo sto lavorando con l'uncinetto 4 per avviare il nostro lavoro dobbiamo fare una catenella che sia un multiplo di 4 innanzitutto quindi contate di 4 in 4 la lunghezza di questa catenella deve essere almeno vicina ai 55 60 centimetri quindi di 4 in 4 contate avendo il metro vicino quando arrivate a quella misura vi fermate poi chiudete ad anello ok realizzando quindi un cerchio in realtà questo cerchio vi dovrà passare agevolmente dalla testa voi ve lo calcate in testa se passa facilmente la misura è corretta quindi deve essere più lenta di un cappello non eccessivamente larga ma neanche insomma troppo stretta perché poi contate che quando la indossate vi truccherete quindi fatela abbastanza morbida da non farvela proprio strusciare in faccia ogni volta che la mettete o che la togliete perché altrimenti insomma la roviniamo per bene con con il trucco una volta che avete unito la prima con l'ultima catenella realizzate tre catenelle e quindi partiamo con il lavoro questo è un multiplo di quattro perché noi per tutto il perimetro della nostra catenella dobbiamo fare questo lavoro quindi faremo 3 maglie alte e una catenella 3 maglie alte una catenella per questo lo consideriamo un multiplo di 4 ok quindi le prime tre le contiamo già come una maglia alta la seconda la terza maglia alta facciamo la catenella saltiamo il punto ok andiamo in quello successivo quindi il punto sottostante alla catenella lo dobbiamo sempre saltare non va non va lavorato quindi dobbiamo lasciare un buchino ok ed è questo tutto quello che dobbiamo fare in questo primo giro quindi 1 2 e 3 maglie alte e poi fate la vostra catenella quando avete fatto la vostra catenella saltato un punto è andata nel punto successivo in questo modo si creerà uno spazio che vi servirà nel giro seguente per fare il vostro lavoro ok quindi diciamo che questo è soltanto un giro di costruzione dal giro successivo poi questi buchini saranno indispensabili per poter procedere quindi lavorate tutta la catenella con questo sistema 3 maglie alte una catenella ricordatevi sempre di saltare il punto sottostante alla catenella ci vediamo alla fine di questo giro allora una volta che avete terminato tutto quanto il giro facendo 3 maglie alte una catenella quindi saltando un punto base unite appunto bassissimo fate 3 catenelle per ricominciare e già nello spazio subito sotto lavorate altre due maglie alte che corrisponderanno poi a un aumento alla fine di questo giro di aumenti come questi ne dobbiamo fare due qui e uno esattamente di fronte come lo facciamo a fare allora innanzitutto dobbiamo contare gli spazi che abbiamo cioè gli spazi che abbiamo lasciato quindi questi quadratini qui io l'ho già fatto e ho 30 di questi spazi ok degli spazi lasciati dalla dalle catenelle la metà è 15 quindi adesso lavorerò per i prossimi 15 punti e poi farò il mio primo aumento anche cosa consiste l'aumento di raddoppiare il numero di maglie lavorate nello stesso punto in questo modo si formerà la punta ok per cui il nostro poncio avrà una forma punta sia davanti che dietro quindi la lo scollo sarà comunque rotondo ok poi tutto il resto sarà punta come si belle punte saranno una davanti uno dietro come si procede il modulo è sempre lo stesso 3 maglie alte e una catenella soltanto che in questo caso saranno invertiti perché la catenella corrisponderà allo spazio delle tre maglie alte e nello spazio di sotto lavoriamo tre maglie alte quindi diciamo che è tutto così 3 maglie alte e una catenella come abbiamo fatto sotto quindi praticamente ogni volta lavoreremo le tre maglie alte negli spazi lasciati dalla catenella e la catenella andrà a sovrapporsi praticamente alle tre maglie alte quindi tutto il gioco è questo quindi per questo vi dicevo che molto veloce molto semplice perché non ci sono schemi da ricordare punti da contare quant'altro quando trovate il buchino lavorate tre maglie alte e a seguito delle tre maglie alte comunque avete sempre una catenella da lavorare sono arrivata alla mia metà ok quindi dovete considerare la metà quindi praticamente vedete è l'esatta metà da una parte e dall'altra quindi nel mio caso sono 15 punti cioè io ho contato soltanto gli spazi lasciati dalle catenelle quindi sono esattamente 15 cosa faccio creo il mio aumento e come si fa l'aumento semplicissimo lavorate comunque le vostre tre maglie alte e la vostra catenella quindi sono tre maglie alte e una catenella e di nuovo tre maglie alte questo farà sì che si formi la punta ok potreste scegliere anche di farne una sola quals caso mai voleste la punta solo sul davanti per esempio e dietro liscia potreste fare anche soltanto una punta però a me piace simmetrica quindi la faccio sia davanti che dietro vedete nella stessa nello stesso spazio abbiamo lavorato tre punti alti una catenella tre punti alti questo lo faremo soltanto due volte per ogni giro cioè lo rifaremo qui in mezzo capite ogni volta che passerete qui rifarete tre punti alti una catenella e tre punti alti perché per il resto continuate a lavorare con lo stesso criterio e di nuovo lo rifarete qui dall'altra parte quindi questo farà sì che si formeranno quelle punte ok quindi il bello di questo poncio a mio avviso è proprio questo il di poter lavorare in tondo senza dover chiudere ogni giro senza dover contare senza dover impazzire a creare delle parti che poi devono essere perfettamente uguale poi magari vanno cucite e non ci viene perfetto invece questo è una lavorazione in tondo quindi continuate ok in questo modo ci rivediamo alla all'inizio di questo giro perché noi l'aumento nel primo punto non lo abbiamo in realtà fatto no siamo partiti vedete qui direttamente con tre maglie quindi poi ne dovremo lavorare altri tre nello stesso buco ok quindi intanto procedete e poi ci vediamo tra un pochino quando siete arrivati a questo punto lavorate le vostre tre maglie alte la catenella e poi andata a rilavorare nello spazio qui sotto perché qui che dovete creare il vostro aumento formato appunto da tre maglie alte una catenella e altre tre maglie alte niente proprio questo filo che è tremendo allora 1 2 3 e la vostra catenella ok dovete chiudere appunto bassissimo quindi dovete entrare nella terza catenella del primo punto alto io entro anche così con la punta se rifaccio fatica a prenderla e chiudo appunto bassissimo praticamente il vostro aumento e qui ok lo avete qui e lo avete esattamente dall'altra parte quindi ogni volta rifarete le vostre 3 catenelle e lavorerete in questo spazio praticamente le vostre 3 maglie alte quindi una che sono le prime 3 catenelle per riavviare il lavoro 2 e 3 quindi catenella e procedete come siete consuete fare quindi lavorando sempre cambio uncinetto mi prendo l'uncinetto più grande sono certa che col 5 andrà meglio è vero sì allora così si ammorbidisce anche il lavoro e procedete semplicemente in questo modo se avete capito diciamo il sistema quindi 3 maglie alte e una catenella 3 maglie alte una catenella ricordandovi sempre qui di lavorare nella catenella centrale 3 maglie alte catenella 3 maglie alte e di chiudere il lavoro rifacendo 3 catenelle o una 3 maglie alte una catenella qui ok e di ricominciare sempre nello stesso punto d'accordo io vi faccio vedere lo schema che mi sono salvata praticamente da internet gli ho fatto una foto dal cellulare per essere certa di non dimenticarlo e lo schema è praticamente questo qui spero che si riesca a vedere ok guardate è la catenella da lavorare tutto intorno vedete tre punti alti e una catenella per separare ogni volta che ricominciate il giro dovete rifare praticamente vedete tre catenelle due punti alti e continuare il giro sempre tre punti alti una catenella per tutto il perimetro guardando che poi sia sopra che sotto avete lo stesso tipo di aumento e l'aumento è questo cioè lavorare tre punti alti una catenella tre punti alti nella stessa catenella sottostante guardate e questo è quello che abbiamo fatto adesso cioè tre catenelle per girare la per ricominciare il giro successivo poi fate due maglie alte proseguite e richiudete il giro nello stesso punto sottostante questo è quanto questo schema lo potete portare avanti per tutta la misura che volete questo allora ci siamo riavvicinati all'aumento quindi lavoro in questo spazio i miei tre punti alti una catenella e poi lavoro tutto l'aumento qui dentro cioè vedete nel ventaglietto quindi in questo spazio piccolo lavorerò tre maglie alte una due tre maglie alte una catenella e altre tre maglie alte e così in ogni giro sentite come scricchio la catenella e poi entrate qui nel primo spazio disponibile per lavorare le nostre altre tre catenelle maglie alte lavoriamo sempre negli spazi vedete come si sovrappongono via via le nostre i nostri aumenti vedete come la punta si comincia a formare ok quindi ho lavorato le ultime tre maglie faccio la mia catenella e lavoro le altre tre maglie dove ho lavorato queste tre che siamo alla fine del giro quindi faccio una 23 e l'immancabile catenella chiudo appunto bassissimo vorrei chiudere appunto bassissimo ecco qui faccio tre catenelle e rilavoro sempre nello stesso spazio le mie prime tre maglie alte del nuovo giro una due e tre ok catenella e subito entrate nel primo spazio utile e così tutto il lavoro per tutto quanto il poncio vedete la punta via 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 si vede sempre di più ok vi auguro buon lavoro e ci vediamo alla fine allora io come vedete mi sono messa abbastanza avanti col lavoro realizzando al momento 25 giri da quella che era la parte iniziale quindi della catenella siamo poi se vi ricordate insomma un pochino i passaggi abbiamo realizzato praticamente il questo primo giro e da qui poi il lavoro grazie alle due maglie lavorate al centro è cresciuto e quindi si è allargato via via quindi è un lavoro che parte piccolino e poi si allarga mano a mano perché quelli che facciamo al centro sono praticamente degli aumenti una volta che avete in qualche modo deciso la lunghezza del poncio lo potete chiudere nel modo che più vi piace allora io devo fare praticamente adesso all'ultimo aumento ok lo facciamo insieme e proprio per ricordarvi in cosa consiste quindi abbiamo detto che in ogni archetto avremmo lavorato praticamente tre maglie alte avremmo fatto una catenella per distanziarci per passare sopra ai tre punti alti del giro precedente quindi io ho fatto già la mia catenella questo è l'angolo quindi vuol dire che qui andrò a lavorare quindi le prime tre maglie alte quindi una due e tre ed essendo l'angolo quindi la parte della punta farò una catenella e nuovamente nello stesso punto quindi nello stesso archetto alte tre maglie alte e questo lo fate per ben due volte perché le punte sono due se volete che le punte siano due altrimenti decidetelo dall'inizio che dovete fare una sola punta vorrà dire che vi verrà dritta da una parte appuntita dall'altra quindi una vostra scelta quando avete rifatto l'angolo rifatte la catenella e proseguite lavorando solo negli archetti le tre maglie alte e facendo ogni volta una catenella per separare una volta che avete deciso che la lunghezza è giusta che quindi sia il caso di completare potete lasciare il bordo così come si trova perché d'altronde non è non è brutto altrimenti potreste rifare tutto intorno semplicemente un giro a maglia bassa oppure se vi piace l'idea di avere qualcosa leggermente movimentato potreste ripassare a maglia alta tutto il perimetro lavorando due maglie su ogni punto base quindi lavorando su ogni punto 2 catenelle e nell'archetto ne lavorate 6 quindi raddoppiate il numero dei punti in questo modo vi si viene a creare un volant molto delicato se vi piace invece l'idea di averlo più tradizionale più classico potreste semplicemente fare delle frange ad ogni archetto fare delle frange sempre con la lana chiaramente quindi insomma il modo di concludere questo lavoro è libero quindi se volete fare anche dei petali potreste lavorare un 7 maglie alte qui e chiudere nella terza maglia alta successiva quindi rifate 7 maglie come se faceste i petali di un fiore la facoltà di chiudere di abbellire questo poncio è a vostro gusto una volta che l'avete definito lo potete completare nel modo che più vi piace una volta che avete preso la misura della testa quindi fatta la catenella chiusa e fatta passare per la testa avrete capito che questo poncio non altre misure perché poi cresce mano a mano che procediamo con il lavoro quindi si può adattare a chiunque potreste farlo per una bimba molto piccola piuttosto che per una persona molto anziana non ci sono limiti una volta che passa per la testa il poncio e lo avete già messo a misura per la persona a cui lo destinate chiaramente cambierà la lunghezza per me la lunghezza giusta del poncio è quando il lato curto che questo qui vi arriva a coprire praticamente il gomito quindi una volta che vi copre la spalla il gomito quindi vi copre per bene tutta la parte di su è un poncio molto caldo quindi chiaramente se questo vi tocca sul gomito la punta andrà ben più giù della cinta del pantalone a me piace molto il poncio l'ho realizzato in questo materiale che non è né scuro come colore e né prettamente insomma lanoso quindi sta lana pelosa eccetera perché lo vorrei indossare anche a primavera e non voglio dare l'idea proprio di una lana invernale sul jeans e sulla camicia bianca secondo me questo è spettacolare però chiaramente se l'ho fatto invernale o se anche a primavera vi piace sfoggiare qualcosa di lana scegliete tranquillamente anche delle lane mohair delle lane più pelose o anche più spesse tanto la lavorazione non subisce alcun cambiamento se la lana è più spessa probabilmente vi serviranno dei gomitoli in più per lo spessore della mia lana per l'uncinetto 5 che ho utilizzato allo stato attuale ho usato sei gomitoli probabilmente però ne userò un altro perché lo voglio allungare ancora un pochino chiaramente lo si può realizzare anche in cotone in cotone veramente molto bello perché il cotone essendo molto sottile chiaramente vi viene molto molto ma molto più delicato quindi potrebbe essere un degno sostituto di un coprispalle di una stola quando magari a primavera avete delle cerimonie e quindi vi piace indossare qualcosa di importante magari fatto da voi quindi a lì sarebbero bellissime anche delle frange scegliendo dei materiali misti a seta quindi leggermente più lucidi potreste veramente realizzare un capolavoro oltretutto avete la possibilità di arricchirlo nel modo che più preferite quindi tutta la parte della scollatura potreste tranquillamente realizzare con dei fiori con delle applicazioni boccioli rose quello che più vi piace io qui stavo facendo il campione di questo fiore ne ho realizzati tre poi da attaccare e magari mettendo un bottoncino al centro potrebbe diventare una valida decorazione potreste fare delle rose dei boccioli potreste fare dei fiori più stilizzati potreste anche non mettere nulla e realizzare invece uno scaldacollo che abbia poi tutte le decorazioni oppure una collana col tricotin alla quale puoi applicare queste questi fiorellini o altrimenti potreste mettere i fiori direttamente sugli spilloni e posizionarli solo quando ne avete voglia insomma quindi è una pagina bianca quella che io vi offro oggi c'è un pezzo che ognuno di voi può personalizzare nel modo veramente più svariato possibile quindi la scelta dei colori della lunghezza delle decorazioni e la parte finale francia frangia volanne eccetera è a vostro totale gusto quindi non c'è bisogno che io vi dia alcuna misura l'importante è fare bene la catenella iniziale e ricordatevi giustamente l'alternanza questo è un modulo di tre quindi ricordatevi che la catenella deve essere comunque un multiplo di tre chiudete appunto bassissimo e procedete nel modo che avete visto quindi mi auguro che questo ovviamente non ha cuciture non ha nulla quindi un poncio da infilare per la testa anche per questo è di semplicissima realizzazione quindi lo rendo un modello veramente perfetto per tutti quindi io mi auguro che questo tutorial vi sia stato utile vi sia piaciuto e spero che ne possiate tirar fuori dei bellissimi lavori io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial